Rossi, oggi è stato l'unico a sostenere una mozione del suo collega contro l'aumento delle spese militari. Che cosa è successo durante la conferenza dei capigruppo? Che questa mozione non è stata messa in aula, una mozione che chiedeva semplicemente di schierarsi contro allo scelerato aumento delle spese militari che il nostro Senato andrà ad approvare giovedì. E' una richiesta che è purtroppo sostenuta da quasi tutti i partiti del Parlamento. Quindi io mi sono schierato con la mozione del collega Santarelli, che ringrazio, che purtroppo non è entrato in aula. Ma di che cifre si parla? Si parla di cifre propositate ed assurde. Quindi questo aumento prevede un aumento dall'1,4% al 2% del PIL. Dai quasi 26 miliardi annui si passerebbe ai 38 miliardi di spese per armamenti militari. Ciò vuol dire una spesa giornaliera che passa dai 68 milioni ai 104 milioni al giorno. Questi sono dati MILEX dell'Osservatorio sulle spese militari italiane. Le nostre famiglie sono alle prese con una crisi economica importante. Le nostre aziende altrettanto. Molti devono decidere se pagare le bollette o mangiare. E il nostro Parlamento va a provare una spesa folle. Tra l'altro in un momento di tensione internazionale. Questa scelta può solo che aumentare la tensione internazionale. Quindi io sono della linea di persone autorevoli come Papa Francesco che parla di pazia. Quindi io mi schiero contro l'aumento delle spese militari. Qual è il suo appello? Invito tutti i partiti politici, tutti i militanti, i sostenitori dei partiti politici a far pressione verso i propri rappresentanti affinché questa scelta scelerata non possa andare avanti e sia bloccata in Senato.